Erick, vedi qualcosa? Un momento, c'è uno di quelli che hanno ucciso il poliziotto alla fermata dell'autobus? Gli altri tre stanno parcheggiando proprio dietro di te Stanno controllando Controllando chi? Noi Cole avrà detto della cassetta di sicurezza prima che lo uccidessero Senza chiave, sono bloccati Aspettano che usciamo col libretto per portarcelo via Se ci individuano Sì Non si muova, agente Cullen Sam ci hanno individuato Prende il libretto, ce lo dia o morirà Chiaro? Dica chi ha capito Ho capito Secchino sul terrazzo della libreria pubblica Togliamolo di mezzo No, usa il laser per farsi notare, ce ne sarà un altro Bisogna adattarsi al loro gioco Io non posso muovermi Andate voi in banca Erick, posso andare? Hai fatto? Dammi altri cinque minuti Ne hai due Sì Hai un agente davanti alla National Bank Uno dei nostri amici della CIA sta per raggiungerlo Quando avrete il libretto, consegnatelo a lui Lo sai che ci sono anche i russi fuori dalla banca? Sì Datemi il libretto e ai russi penserò io Signor Cullen Uno dei nostri cugini sta per raggiungerla Faccia tutto quello che le dice di fare Mi sono spiegata? Molto bene Signor Hanna? Sì, ho capito Benvenuto al party Siamo in buona compagnia Ah, il giubbotto? No Va usato sempre Mandi i suoi a prendere il libretto Non vorremmo fare una sparatoria in pieno centro Troviamo un'altra soluzione Che cosa hai in mente? Creiamo un diversivo Cassie, vieni da me Eric, come andiamo? Ancora non ci siamo Entra in banca Fatti mostrare alle cassette di sicurezza Di che vuoi aprire un conto Poi torni di sopra E esci dalla banca Ma nervosa Come se avessi il libretto Faccio da esca I russi ti seguiranno Dix Le guardo le spalle Quando esci dalla banca Semino ai russi Ma roba da niente Un'altra cosa Hai una gomma Sam, pare che Mattias Si fidi poco di noi Eric, il tempo passa Devo entrare nel computer Di una banca, Sam Come va il braccio?